... Benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 24 aprile 2020, in diretta a 7.49 minuti dopo la Messa del Papa da Santa Marta, siamo di nuovo insieme per guardare, sfogliare i giornali che troverete in edicola questa mattina, ovvero il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Ci abbiamo anche la notizia dell'ultima ora, ma la vedremo subito dopo le previsioni del tempo, una notizia che riguarda la notte e che probabilmente qualcuno di voi ha sentito. Andiamo subito a vedere il Santo del Giorno, il Santo di oggi è San Fedele da Sigmaringen, spero che l'abbia detto bene, sicuramente l'ho sbagliato, ma comunque questo è il Santo, il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 20.03. Il tempo, cielo sereno con densamenti più consistenti soltanto sui rilievi meridionali, le temperature sono in aumento nei valori massimi. Per quanto riguarda il vento ancora qualche brezza tesa nord-occidentale, ma attenzione perché nei prossimi giorni arriverà vento molto forte. Siamo alla giornata di sabato, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, avremo inizialmente domani cielo sereno con però locale aumento della nuvolosità da fine mattinata. Per nuvole, vedete, cumuliformi, queste tutte belle grigie scure, che verranno trascinate localmente verso la costa dai flussi in quota. Le temperature sono in aumento, soprattutto nei valori massimi domani, ma attenzione, dicevo, perché il vento comincerà a soffiare nelle zone montane, nel settore centro-settentrionale con rafiche fino a vento forte e poi nel corso del pomeriggio invece il vento diminuirà. O, mentre per quanto riguarda la giornata di domenica 26 aprile, domenica 26 aprile avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con brevi piovaschi possibili soltanto sui rilievi meridionali della regione. Ancora vento di brezza tesa sud-orientale lungo la costa. Possibile peggioramento a metà settimana per il transito di una perturbazione atlantica. E adesso andiamo a vedere il nostro sito internet. Questa è la pagina all'home page del nostro sito internet, occhio alla notizia.it. E la notizia di apertura che ha battuto la redazione questa mattina intorno alle 6 è qui, eccola qua. Scossa di terremoto nella notte a Colli al Metauro. Ora, non so quanti di voi l'abbiano sentita questa scossa. Io personalmente sì, perché più o meno quell'ora comincio a svegliarmi. Quindi 4,28 nella zona di Lucrezia, Cartoceto, Calcinelli, Monte Maggiore di Colli al Metauro. Tra l'altro Monte Maggiore è l'epicentro di questa scossa di magnitudo 2,4. Non è molto, però si è sentito un rumore, un rumore prolungato, come se provenisse appunto dal sottosuolo. E poi un movimento tellurico, ondulatorio, di breve durata. È stato un attimo, tant'è che stavo per dire ecco il terremoto, ma l'ho solo pensato perché poi già era finito tutto. Però si è sentito, si è sentito il classico rumorino del mobile, dell'armadio che si muove, il letto che si muove, eccetera. 4,28, 2,28 e questa è la scossa di terremoto che è stata registrata all'appunto con una profondità di 10 chilometri, a 2 chilometri a nord di Monte Maggiore al Metauro. Tra l'altro abbiamo lanciato, come vedete, e facciamo spesso la domanda, hai sentito il terremoto, indica la località, mandaci WhatsApp cliccando sul bottone che per chi guarda dal cellulare può cliccare. E devo dire che stanno arrivando parecchi messaggi nella zona, insomma, tanti l'hanno sentito. Restando sul nostro sito internet, tornando sulla home page, visto che non lo facciamo quasi mai, ecco, allora questa è l'home page, vedete c'è anche la notizia della pistola, della lettera minatoria al sindaco di Pesaro, lo vedremo tra il giornale, poi tutta la notizia che riguarda il raptus di follia ieri di cui vi abbiamo parlato anche nel corso della rassegna stampa. Poi andando qua potete anche iscrivervi al canale Telegram oppure leggere il giornale di casa, i messaggi dalla quarantena, oppure sostenere Fanotv facendo una donazione. Ma adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dal resto del carlino. L'edizione è quella di Pesaro, amore più forte del virus. Il giornale questa mattina racconta la storia, lieto fine, di questa coppia che vedete nel riquadro, si tratta di Ermanno Sgarzini e la moglie Rosella Toni che sono stati ritratti dopo le dimissioni dall'ospedale. Lui e lei sono stati vicinissimi alla morte, ma alla fine ce l'hanno fatta tutte e due. Lui ex bancario, lei un ex insegnante d'inglese, marito e moglie raccontano il calvario parallelo, però vissuto in due ospedali diversi. Sono vivi grazie ai medici e all'affetto dell'uno verso l'altra. Minacce di morte al sindaco Ricci. Questo è il titolo d'apertura del carlino di oggi. Lettera con foto di caricatore e bossoli recapitate nella sua cassetta delle lettere. La minaccia, la scritta era appunto sappiamo dove abiti. Le celebrazioni, domani è il 25 di aprile, celebrazioni senza assembramenti, bella ciao cantata dunque dai balconi. È molto virtuale questo 25 aprile dopo, penso per la prima volta. Disabili chiusi, no penso, senza penso, è per la prima volta. I centri diurni e emergenza, disabili che stanno vivendo con le rispettive famiglie queste giornate di quarantena davvero con molti disagi e ci sono anche gli operatori che adesso lanciano l'allarme. Poi la notizia e la felicità dei genitori. È nato Giulio, è nato per Pasqua e i genitori dicono sei tu la nostra fase 3. Un artigiano su cinque, probabilmente queste sono le stime della crisi, forse non riaprirà dopo il 4 di maggio. Mentre ci sono spiragli per gli operai della Berlone che probabilmente riceveranno la cassa integrazione sfruttando quella prevista per la Covid-19. Soltanto un decesso, non era così da due mesi, siamo tornati ai numeri praticamente di inizio marzo e poi l'annuncio dell'Asur, i tamponi verranno fatti subito se il sierologico risulta positivo per abbattere l'allargamento del contagio. E nel fine settimana gli esami a raffica anche nei drive-in o nei checkpoint. Zitti zitti, che forse ci siamo. Titola così il Corriere Adriatico di Pesaro, solo 28 nuovi positivi su 1130 test, uno ogni 40 praticamente. La crescita è allo 0,5%, un terzo della media nazionale. Diminuiscono i ricoveri sotto quota 800, ieri però ci sono stati altre 8 morti. Screening sierologico, il via nelle aree vaste. A centropagine invece la foto, un particolare della lettera che è stata ricapitata, vedete, scritta con il ritaglio di giornale, la fotografia di un caricatore, di una pistola. Insomma, lettera minatoria al sindaco Ricci. Mentre sotto, da Pesaro, il presidente degli albergatori dice apriremo gli hotel per la fine di giugno. Gli operai della Berloni, cassa integrazione con gli aiuti Covid. E poi, sempre da Pesaro, l'imprenditrice che dice la ripartenza, grazie alle donne. E poi un pacco bomba, sempre sulla prima pagina del Corriere, che è stato trovato, lasciato sulla Monte Labattese, che è stata anche chiusa dagli artificieri per fare la bonifica, aprire questo scatolone, ma all'interno c'era soltanto una pianta, quindi niente di che. Allora, la curva, la curva piatta dell'epidemia. Ora i contagi sono una rarità, solo 28 nuovi positivi, su 1130 test, uno ogni 40. Praticamente la crescita allo 0,5, come abbiamo detto, un terzo della media nazionale. Diminuiscono ancora i ricoveri, specie in rianimazione, altri 8 morti, 865 sono le persone che sono decedute in tutta la Regione Marche. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 1.865, la quarantena è per 8.000 persone. Ieri il maggior numero dei casi, 10, nella provincia di Macerata. Un decesso e contagi verso crescita zero, il titolo del resto del Carlino di Pesaro. Soltanto 8 i nuovi casi positivi. Bisogna tornare al 27 febbraio scorso per avere numeri così bassi, quando praticamente tutto è cominciato. Gli infettati in provincia sono 2.374. In calo anche i gravi. Sia a Pesaro che a Urbino i ricoverati in rianimazione sono in netta diminuzione. In aumento invece gli isolamenti domiciliari, che sono arrivati a toccare quota 4.237. Dunque il territorio pesarese va verso la crescita zero di nuovi contagi, un numero di ricoveri e di vittime. Nelle ultime 24 ore si è registrato solo un decesso in provincia di Pesaro Urbino, quello dell'imprenditore fanese Giuliano Solazzi, di cui abbiamo parlato anche nella giornata di ieri. Il giornale appunto ne ha dato notizia. Lettera minatoria al sindaco Ricci, il Corriere Adriatico. Politica dell'odio, dice lui. Non mi intemoriscono, sono amareggiato, soprattutto amareggiato per i miei bambini, per la mia famiglia. Basta gli insulti per ottenere consensi. Ringrazio il prefetto, il questore e la Digos. Il Carlino, avvertimento criminale a Matteo Ricci, una lettera minatoria con le parole ritagliate da giornali, ricapitali a casa, nella busta anche foto di caricatori e di quattro proiettili. La polizia ha preso in consegna la busta, ovviamente la scientifica in azione per trovare il DNA. Mentre c'è quest'allarme bomba per un pacco trovato sulla strada, conteneva rifiuti agricoli, paura sulla Monte Labattese, arrivano gli artificieri. La strada, dopo essere stata chiusa circa quattro ore, è stata riaperta intorno alle 17.15, quando il pacco è stato portato via dai carabinieri. I primi alberghi, invece, dice il presidente dell'APA pesarese Fabrizio Oliva, saranno riaperti solo tra due mesi. Per il presidente la prima data ipotizzabile è intorno al 25 giugno. Sono state perse, dice lui, migliaia di presenze, altre disdette vengono dal turismo della terza età. Dunque, gli albergatori si riuniscono in assemblea, aperture dopo metà giugno. Per il ponte del primo maggio persi 15.000 turisti, dice Oliva. C'erano oltre 60 persone collegate in videoconferenza nella riunione degli albergatori pesaresi, più del numero totale degli alberghi presenti in città, è il segno soprattutto del momento particolare che sta vivendo la categoria di questa fortissima crisi, con prospettive più che incerte. Si diceva delle tante iniziative, in programma anche all'Adriatica Cup, che avrebbe all'Adriatica Arena, insomma, la vitrifrigo, al palazzetto, al palazzetto dello sport, dove sarebbero arrivate 15.000 presenze, invece è stato tutto annullato. Insomma, la situazione certamente non è rosea, e qui c'è il racconto, insomma, la cronaca di quello che si è detto in questa riunione. Intanto il sostegno per le estetiste, per i parrucchieri della CNA, ci sono sette proposte che avanzano appunto dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani. Dunque, la Caporetto di Marche Nord, l'altro articolo sul Corriere di questa mattina, posti saturi, accessi sospesi. Si racconta di quello che è successo, soprattutto questo 6 di marzo, che è partita questa lettera drammatica da parte dell'azienda alla centrale operativa del 118. Due dirigenti che dicono a rischio l'incolumità dei pazienti, voi invece rischiate il penale. La Caporetto della Sanità Pesarese per il Covid-19 si colloca tra il 4 e il 6 di marzo, quando dall'azienda Marche Nord partono due lettere drammatiche all'indirizzo del 118 per chiedere in un crescendo di toni perentori la sospensione temporanea del trasporto ai pronto soccorso di Pesaro e di Fano, dei pazienti di tutte le patologie di tipo internistico. Ma ve lo immaginate voi che cosa doveva essere in quel momento? Cioè queste lettere nelle quali si dice non portate gente all'ospedale, che è una cosa da far venire i brividi. È il momento più critico, questo, dell'assistenza sanitaria provinciale, che segna il collasso dell'azienda ospedaliera sotto la pressione di uno sviluppo inatteso e massivo delle infezioni da coronavirus che evolvono rapidamente in patologie di estrema gravità. Si tratta dello tsunami del focolaio pesarese dell'epidemia descritto dal Corriere Adriatico di ieri dal direttore del Dipartimento Michele Tempesta che finisce per travolgere con il corollario di contagio ospedalieri anche il Santa Marta della Misericordia di Urbino, la struttura che riceve l'ondata di malati di Covid proveniente da Pesaro. Ecco dunque, piano piano, con il passare dei giorni e quando le cose, le acque si saranno un pochettino tranquillizzate, ci sarà tempo per rifare tutta la cronistoria nella speranza che si mantenga la verità su tutto perché questa è la cosa più importante e che non ci sia la tentazione di mettere qualcosa in un cassetto e farla sparire. Le cose devono venire fuori e dovranno venire fuori. Il percorso guariti si lavora anche il 25 di aprile e domenica, le analisi pure per gli operatori delle case di riposo. Il percorso guariti è quello cosiddetto, abbiamo chiamato checkpoint, drive-in, insomma sono quei luoghi, a Fano, lo ricordiamo, il Codma a Pesaro, strada dei Cacciatori, dove le persone che hanno contratto il Covid-19 vanno a fare il tampone, il doppio tampone, per ricevere la cosiddetta patente da guarito. Danneggia 5 auto. Apriamo un attimo una parentesi e qui sempre sulla rassegna, andiamo a vedere questa notizia che vi abbiamo dato ieri mattina nel corso della rassegna stampa. Danneggia 5 automobili e poi aggredisce i carabinieri. È l'azione di un ventenne immigrato in stato di alterazione che è stato ricoverato poi in psichiatria. Tre carabinieri sono ricorsi ieri alle cure dei sanitari, feriti in modo leggero durante la collutazione con questo ventenne africano, accusato anche di aver sfondato tutti i finestrini di 5 automobili in sosta vicino all'incrocio tra le vie Trave e via Fornace a Fano. Il giovane è stato ricoverato, come dicevamo, in psichiatria, all'ospedale Santa Croce, dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, denunciato all'autorità giudiziaria dovrà rispondere sia dei danneggiamenti alle automobili dei residenti e anche violenza pubblico ufficiale. Guardate con quale arnese questa donna carabiniere che sta tenendo in mano questo utensile usato proprio come arma. Mentre questa è una delle macchine che vi abbiamo fatto vedere proprio ieri in rassegna stampa, una delle auto che sono state danneggiate da quest'uomo. Ancora sempre su questo fatto, ecco l'altro articolo dal Carrino, spacca le auto e ferisce i carabinieri, ventenne armato di una grossa chiave inglese, semina danni e paura in via Trave, rintracciato poco dopo. Ripensare agli eventi invece, a favore del sociale, il consigliere del PD, Nicolelli, dice revisione del bilancio, dobbiamo ripensare i costi inutili. Altro che nota di censura, torniamo a parlare adesso invece di nuovo di questa emergenza Covid, altro che nota di censura, proteggiamo il personale. Divieto di utilizzo dei social per i dipendenti dell'area vasta, ora l'azienda risponde, l'obiettivo era impedire strumentalizzazioni e difendere i cittadini dai falsi allarmi. Test sierologico positivo, scatta allora il tampone, l'annuncio del servizio vaccinazione dell'Asur, il paziente entra subito in quarantena e poi nel percorso per la verifica molecolare. L'area vasta, uno, darà la possibilità, quindi Pesaro insomma, darà la possibilità agli assistiti che si sottopongono autonomamente al test sierologico, riscontrando un quadro sospetto, di essere inseriti nel percorso guariti per effettuare il doppio tampone che rileva con certezza però la positività al coronavirus. Ad annunciarlo è Marco Monaldi, responsabile del servizio vaccinazione e membro dell'unità di crisi contro l'epidemia. Il virus circola ancora molto, dice Monaldi, e forse diversi contagi avvengono all'interno delle famiglie. Esami a raffica, come dicevamo, anche domani, che è il 25 di aprile, e il 26 si svolgono al Trevindi, Via dei Cacciatori, Biancani, l'assessore che ha fatto il primo, il 22, farà il secondo nella giornata di domenica. L'economia, noi tenuti in mansarda, facciamo il 22% del PIL e ci hanno scoperto ieri. I costruttori ripartiranno dal 4 di maggio, fin qui si è parlato solo di industria e di turismo e dovremo assumerci la responsabilità dell'infortunio sul lavoro per il Covid. Poi, dal Carlino, disabili, prigionieri in casa, crisi di panico, le chiusure dei centri che li ospitavano sta mettendo in difficoltà utenti e famiglie. Il grande impegno a distanza, poi, degli operatori. Non eravamo mai stati chiusi, dicono loro, più di due settimane, in estate o per Natale. Sta diventando un'emergenza, nell'emergenza, dice Paolo Dionigi, responsabile della cooperativa T41, che gestisce il centro di urno dove vengono seguiti 25 utenti con disagio psichico. La filosofia delle comunità di accoglienza era l'inclusione. Difficile dire ai ragazzi, state lontani. E poi la solidarietà anche dal Giappone. Finanziatori, scusate, finanzieri, donano 10.000 euro. È l'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia che attraverso la sua Allurs Fiamme Gialle ha devoluto 10.000 euro all'azienda ospedaliera Marche Nord. Guardate questa fotografia. Sono i nuovi interni degli autobus che circolano nella nostra provincia. Avranno con sedili smontati da pannelli in plexiglass. E dunque, come vedete, potete immaginare tornare sugli autobus anche dopo il 4 di maggio. Insomma, ci saranno delle novità. Tra l'altro i trasporti sono l'unico nodo ancora un po' pericoloso da risolvere, da gestire, perché insomma il virus spesso e volentieri viaggia proprio sui mezzi pubblici. Mascherine comunque, ovviamente per tutti, distanze di sicurezza. Il direttore di Adria Busseami, Massimo Benetti, svela questo nuovo modo per viaggiare. Più corse e meno passeggeri, ovviamente per ogni mezzo. Si prospetta la prova sierologica per tutti i dipendenti, seppur su base volontaria. Il 20% degli artigiani rischia di non riaprire le previsioni della categoria di confcommercio. Rischiamo che restino senza lavoro 15.000 persone, quelle legate a bar, ristoranti e anche alberghi. Anche le aziende più grandi non sono esenti, soprattutto chi è legato all'export, dice Moreno Bordoni della CNA, mentre Varotti aggiunge, eppure la Germania, ha messo sul tavolo 50 miliardi per le partite IVA. E noi, Berloni, ossigeno per gli operai, concessa la cassa integrazione, ne usufruiranno circa 40. Il fondo Covid, anche se è difficile dire quando i soldi arriveranno, durerà nove settimane. Stessa spiaggia, stesso mare, riferendosi un po' e parafrasando la canzoncina famosa, le seconde case sono il jolly che rilancerà subito la costa adriatica. Nelle Marche sono circa 85.000 le abitazioni utilizzate per le vacanze, i sindaci al lavoro, con gli operatori per garantire i servizi di chi arriverà. Dunque speriamo che almeno le seconde case si possano riempire e che serva, insomma, qualcosa, almeno. Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia, candidato in pectore per diventare il nuovo governatore, o perlomeno candidato del centro-sinistra, ma che fortuna tornare a Senigallia e godersi il mare. Oppure, già Luigi Tombolini, abbiamo spazi infiniti, il motto è vicini ma lontani. E poi tanti altri slogan che stanno studiando in questi giorni frenetici per cercare di accapparrarsi il turista che ovviamente non sarà turista straniero, sarà un turista nostrano, un turista italiano. E sarà forse, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno, sarà forse l'occasione per riscoprire la nostra bella Italia. Venite da noi e non ve ne pentirete, sarà lo slogan della nuova stagione, appunto l'intervista all'assessore Pieroni, qui accoglienza e sicurezza, ma danno enorme, il danno enorme l'hanno creato questi dati dell'osservatorio, i dati a cui fa riferimento è quello che dicevamo ieri e ieri l'altro, l'osservatorio nazionale che diceva che le Marche sarebbero uscite insieme alla Lombardia per ultime e avrebbero avuto contagi zero soltanto alla fine di giugno, capirete voi, è un po' il disastro che hanno, vedete a volte, ma crollano le borse per una dichiarazione, figuriamoci una prenotazione in albergo. Costa magica, ad Ancona c'è questo problema che sono tutti preoccupati gli anconetani perché sta arrivando la costa magica, questa bella nave da crociera, dove però dentro ci sono parecchie, più di cento persone con il Covid-19 e quindi insomma si ha paura perché dicono ma questi poi escono, dove vanno, che succede, si fa un po' di confusione. Comunque, 600 tamponi alla quarantena, la banchina del porto, forse blindata per mesi, non si sa. Il DG dell'Asur Storti dice faremo due test ravvicinati su ogni componente dell'equipaggio. Giampieri, che è il presidente dell'area portuale, dice non inficerà l'attività, quindi tutto proseguirà dell'autorità portuale. Scusate, poi tutto andrà avanti, l'attività del porto andrà avanti, il sindaco di Ancora dice la sicurezza è garantita. Ci fossero stati motivi di rischio, dice Valeria Mancinelli, mi sarei opposta. Mentre, dice Giampieri della dottorità portuale, abbiamo scelto l'area Ex Silos perché quella è tutta protetta. Quindi, Nadia Storti dell'Asur dice abbiamo ricevuto tutte le schede, possiamo procedere con le verifiche, insomma, quindi nessuno scenderà dalla nave senza la certezza che non è contagiato. E va a tranquillizzare ancora di più gli ancoretani Giovanni Pettorino, lo vedete nella fotografia, ha 63 anni, ammiraglio ispettore comandante generale della Guardia Costiera, dal 2010 al 2013, è stato direttore generale delle Marche. A Codogno dice Pettorino, qualcuno è fuggito dalla nave, invece non si può scendere, non si può scappare. e dunque è zona rossa, tutta la zona lì attorno è zona rossa, non c'è nessun rischio, ma nessuno può scendere, se no, come abbiamo visto, con la patente da guarito certificata al 100%. Qualcun altro ha detto no a quella nave, Cagliari ha detto no, non la vuole, non la voleva. Napoli lo stesso, Sardegna esentata, la campagna aveva già dato il criterio di distribuire queste navi su tutto il territorio nazionale, quindi però poi sarebbe toccato anche a Dancona. Guardate questo pacco invece, il pacco che ha portato alla chiusura della Monte Labattese, un pacco abbandonato sul cilio della strada nella tarta mattinata di ieri, che poi ha innescato tutta una serie di reazioni a catena che ha portato all'arrivo anche degli artificieri alla chiusura della stessa Monte Labattese. Questa è la ricostruzione della vicenda che non ha mancato di suscitare anche un po' di apprensione, insomma, c'è questa telefonata, insomma, che ha detto c'è questo pacco, questo eccetera eccetera, alla fine, insomma, si è visto che dentro c'era poco o nulla, insomma, c'erano delle cose che riguardavano l'agricoltura, una pianta, le robe che c'è. Caccia al boh invece, questo è il rettile che è stato visto al Miralfiore, ma attenzione, perché in questo periodo, quando arrivano i primi caldi, il primo sole non è che escono i pitoni, arrivano invece quelle che abbiamo noi in gergo bisce, ma in realtà sono il biacco, il cosiddetto biacco, che fanno una certa impressione, chiaramente, non è bello incontrarli lungo il cammino, ma comunque, insomma, alla fine non sono certamente pericolosi come potrebbero essere appunto un pitone. L'esperto chiarisce, si tratta di un biacco che deve essere riportato nel suo habitat. Soprattutto questo avviene dove ci sono, dove c'è l'erba alta, nei nostri parchi, insomma, ancora ce n'è, anche perché nei giorni scorsi è piovuto, quindi l'erba sta crescendo, sta salendo parecchio, con il sole aumenta notevolmente, adesso si spera che con la riapertura dei parchi, insomma, ci sia anche la pulizia, la sfalciatura dell'erba, insomma, e quant'altro. Una mano alla Berloni, dagli aiuti per il Covid, l'abbiamo già visto, autorizzata la cassa integrazione, poi via, va demolito il ponte su Via Lamarca, siamo di nuovo a Pesero, qui sopra, lo diciamo sempre, passa la Statale 16, questo è un ponte importante, quindi comunque, dal 4 maggio sarà chiusa la Statale 16, vedete, l'annuncio lo ha dato l'assessore Belloni, si riparte con il cantiere, il sopralluogo dei tecnici anche in Via Canale. La pagina di Fano, invece, dal Corriere Adriatico, per i buoni spesa, sono stati sborsati 6.500 euro di commissione, un'uscita non prevista dal Comune di Fano, che adesso cerca altri 60.000 euro per gli affitti. E sotto, il Nolfi mantiene online anche l'iniziativa extra, lo scrittore Fabio Geda è entrato in sette classi virtuali insieme a docente e preside. Nei ristoranti ora invece la vendita delle pietanze da asporto, la ConfCommercio segnala la nuova esigenza lavorativa. E poi mozione della Lega per un centro unico comunale di acquisto dei dispositivi di protezione per consentire la diffusione a prezzi bassi, lo chiede appunto il Carroccio con l'esponente Ser Filippi. Urbino invece, tessuti e mascherine, testa all'università. Lo studio è stato svolto nei laboratori del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. In questo momento importante, è importante dare un contributo. Sotto esce per chattare, è stato sorpreso e sanzionato. Urbinat, cinquantenne, era seduto davanti al PC, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione. Case di riposo, sempre da Urbino, ma questa volta dal Corriere, non solo gravi ritardi, ma una situazione che non si sblocca. La Foschi denuncia, abbiamo chiesto i tamponi alla Zafiro l'8 di aprile, ma ancora non si è visto nessuno, non si è visto niente, ancora la tendiamo. La circolare del Ministero ne aveva stabilito l'effettuazione già dal 25 di marzo. Sorpreso in fabbrica invece a chattare su Facebook, che è stato denunciato, nei guai anche un Urbinate, che deteneva illegalmente un fucile nella sua abitazione. In due giorni la polizia di Urbino ha sanzionato 20 persone, tutte irregolarmente in strada. Favole a voce alta, qui siamo a Mondolfo, la rosa blu accanto ai suoi ragazzi. Non si ferma l'attività del centro diurno, a sostegno dei 12 ospiti della struttura. Intanto la cerimonia per il 25 aprile è sempre solenne, ma austera, domani con il Sindaco di Mondolfo, solamente tre altre persone. Come abbiamo visto, soltanto pochissimi potranno partecipare a questo appuntamento annuale. Buone spesa, sempre dal giornale Corriere Adriatico, questa volta da Colli al Metauro, mascherine e bollette. Aguzzi illustra gli interventi in soccorso alle famiglie. è quasi pronto un bando per coloro che sono in difficoltà nei pagamenti delle bollette, delle utenze domestiche, spiega il Sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi. Abbiamo predisposto, grazie al lavoro del settore, servizi sociali di tutti gli uffici comunali, contributi a sostegno di chi non riesce a pagare gli affitti. E a buon punto anche l'attivazione dei buoni spese. Ci stiamo anche apprestando, visto il perdurare di questa emergenza, l'acquisto di 12.000 mascherine che saranno distribuite in maniera massiva su tutto il territorio di Colli al Metauro a partire dalla prossima settimana. Scrive Roberto Giungi sul giornale di questa mattina. Senigallia, Opera Pia e Marotti, scia di drammi, altre due vittime nelle case di riposo di Senigallia e di Montemarciano, entrambi 81 anni, sono le quinte vittime per ciascuna struttura. Un decesso riguarda la casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti, dove il personale lavora con tute agricole e da carrozziere in carenza di quelle sanitarie. I contagi sono fermi, non ci sono stati nuovi casi. Intanto muore a 98 anni Sbriscia Fioretti, una grande imprenditrice, fondò l'agriturismo Beatrice, l'omaggio del sindaco di Senigallia Mangialardi. Sotto spacciava cocaina tutte le ore, albanese in carcere, aveva un giro di clienti a Trecastelli e a Senigallia. Scatta per lui la custodia cautelare. L'ultima pagina è quella del Carlino, da Terre Roveresche, otto a contatto con il virus, tra loro c'è anche il sindaco Antonio Sebastiarelli, il mio organismo l'ha sconfitto, senza che mi sia assolutamente accorto di nulla. Otto persone su trenta, tutte asintomatiche, sono state in contatto con il virus e tra loro c'è anche il sindaco Sebastianelli. Sono arrivati i primi referti di questi test seriologici commissionati e pagati dal Comune di Terre Roveresche sulle categorie di cittadini più esposte al rischio di contagio e i risultati, sia pure ancora esigui in termini numerici, sollecitano più di una riflessione, soprattutto perché in sei, pensate, sei persone degli otto soggetti in cui sono state trovate immunoglobuline riconducibili al Covid, sono emerse quelle di classe IgM che rilevano un'infezione ancora in atto e sono in due, tra cui il sindaco, quelle di classe IgG che sostanzialmente evidenziano il superamento invece della malattia. Quindi ti dice il prima, ti dice il DOPS, se attualmente eccetera eccetera. Adare conferma di questi primi dati è proprio direttamente il sindaco e lui dice sì, è vero, mi sono sottoposto al test e mi è stata riscontrata la presenza di anticorpi IgG. Quindi, nelle settimane scorse, dice, sono entrato in contatto con il Covid, il mio organismo però l'ha sconfitto senza che mi sia assolutamente accorto di nulla. Non ho avuto infatti il ben che minimo disturbo, dice ancora il sindaco. E la finalità dei test sia la logica è proprio di tutelare al massimo la salute dei cittadini. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. La rassegna torna domani mattina 25 aprile alle 7.45 dopo la messa del Santo Padre, di Papa Francesco. E quindi a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Arrivederci. Grazie a tutti.